La procura, insomma, la magistratura ha ancora in mano tutto il caso e finché non emette una seconda sentenza meno schifosa della prima, bisogna aspettare, in parole povere. L'ingiuno non per culo veramente nessuno, se quando riuscissi a parlare con lui, glielo direi in faccia, veramente la serano, stronzo più stronzo dei stronzi che io non ho conosciuto perché non lo conosco, ma insomma, meglio non parlarne, non mi interessa veramente, cioè guardo e leggo meno che posso, non ha capito, cioè lui e tutti quelli che parlano come lui non hanno capito niente, sono contentissimo di essere l'unico a sapere la vera tutta storia di Liliana. E carissimi amici, buongiorno, buongiorno a tutti, stamattina meglio mi prendo un po' d'acqua per la vera, ieri gli amici e le amiche mi hanno fatto vedere un video in cui Claudio Serpine sordisce dicendo che io sono lo stronzo più stronzo degli stronzi che egli abbia mai mai conosciuto. Bene, è una cosa incredibile e quindi è doveroso oggi ripercosere almeno quello che ci ha detto questo signore. Bene, lui ieri insomma inizia questo video che mi hanno fatto vedere. Innanzitutto prima con un complimento alla procura dicendo che spera che emette una sentenza meno schifosa di quella precedente e poi il grande complimento a me. Dice Castellano è stronzo più stronzo degli stronzi che io conosco e io lo direi in faccia perché quelli che sono come lui non hanno capito niente, 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 può essere o può essere anche che abbiano capito tutto. Comunque non mi offendo, sicuramente non mi offendo, volevo dire al signor Serpine, non mi offendo perché diceva mia nonna prima di offenderti vedi chi ti dice le cose. Ora, io comunque sono lieto di ospitare Claudio Serpine, qualunque cosa, qualunque contributo egli voglia dare anche su questo canale. Comunque vediamo cosa ha detto in quello show di ieri in cui mi ha etichettato di questo titolo onorifico, insomma. Allora dice, dice guardate, perché questo è proprio un delirio. Io ero quello che conoscevo più Liliana più di tutti quanti, più del fratello, più del marito, più della cugina, uno che ha detto che per 40 anni la vedeva ogni tanto fino a quel famoso agosto 2021, quindi la vedeva due volte l'anno per andare al protocollo a consegnare la domanda e conosceva, ma che conosceva? Non conosceva nulla, la conosceva di vista casomai. A chi conosceva? Ci siamo frequentati per 42 anni, ma quando mai? Ma dove mai? forse un buon Natale, un buon anno, oppure posso protocollare una domanda di contributo, mi dai il numero di protocollo? Forse questo, forse questo. Ora, in interviste precedenti dichiarava che a volte sono passati anni prima che si vedevano e poi adesso. Ma vedete, questo signore, secondo me, bisognerebbe fargli forse un alcohol test prima di fargli un'intervista. Per me, dice, lei era l'allieva ed io ero l'istruttore e ti sarebbe piaciuto fare questo. Forse allieva quando correva, insomma. immaginate cosa dite, cosa dice, amici miei, immaginate. Dice, dice, in me aveva completissima fiducia, completissima fiducia, tanta fiducia, guardate che balla, dice, tanta fiducia che senza allenamento, non con l'allenamento, senza allenamento, senza allenamento ha concluso duecento chilometri di corsa. Immaginate, per la fiducia, voi dovete capire, perché forse non è che state tanto proprio attenti. Per la fiducia che lei aveva in lui, proprio solo per quel senso di fiducia che lui ispira, senza allenamento, così come può fare chiunque, fece duecento chilometri di corsa. Ma il vaneggiamento, il vaneggiamento di questo anziano signore continua. Dice, è pronto, sono pronto a prendere un megafono per andare in piazza San Pietro, a dire al Papa la sua convinzione. Il Papa lo sta aspettando. Dice, la mia vita si è fermata con Liliana. E certamente si è fermata con lei perché balle più grandi di queste non si possono dire, quindi è ovvio che si è fermata con lei. Poi gridare la mia storia. Vuole prendere addirittura anche un quadro armato, ha detto. Vuole prendere un quadro armato. Si ritiene di aver vissuto meglio di Berlusconi, dice, meglio di un Papa. E si meraviglia che con lei che gli diceva tutto e tutto, si meraviglia a un certo punto, dice, ma anche se lei mi diceva tutto. Ma quando mai? Ma chi ti vedeva? Allora, con lei che gli diceva tutto e di tutto, non gli aveva detto, non gli aveva però detto di quell'hotel Grau da Sezzana. E chissà come mai non gli aveva detto dell'hotel Grau da Sezzana. Ma voi capite la mente umana dove arriva. E fu molto prudente il professor Picozzi quando lo definì pseudologia fantastica. Pseudologia fantastica delirante proprio. Allora, ha il ricordo nitido del 13 dicembre, quando pochi minuti, dice, dopo le ore 12, riceve un messaggio whatsapp da lei in relax sul divano, pensando a domani. E lo ricorda bene. lo ricorda bene. Quel messaggio dopo le ore 12, lui lo ricorda bene, però è una memoria a compastimento stagno. Perché alcune cose le ricorda e altre cose non le ricorda. Non ricorda, ad esempio, il messaggio lo ricorda, ma la telefonata del giorno 13 di mattina dopo le 8, di ben 16 minuti. Immaginate un secolo per Liliana che non faceva telefonate se non uno o due minuti. Non si ricorda, non si ricorda, non si dice, no, ma io non me la ricorda. 16 minuti, voi pensate, 16 minuti, ma non le ricorda. Non le ricorda. 16 minuti, non le ricorda. Ai ai Serpin, ai ai, ti stai incastrando, ti ricorda il messaggio e non la telefonata. E poi sarei io lo stronzo più stronzo degli stronzi. E poi della telefonata del giorno dopo nemmeno si ricorda bene, quella delle 8 e 22. Nemmeno lì si ricorda bene, perché, vedete, ne ha dato, ne ha dato delle versioni differenti. Ne ha dato delle versioni differenti. 10 secondi, l'ho rimproverato perché non si faceva sentire. Non parlavamo degli orari del Pullman. Ma com'è? Ma com'è questa memoria? È a singhiozzi. Io, dice, a volto raccontato anche troppo di quello che era il nostro menage. 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 Quale menage? Se non quello degli ultimi mesi di una conclusione drammatica. Quale menage? Lui ha avuto soltanto un ruolo drammatico negli anni 2020 e 2021 nella vita di questa donna. Dice, ma erano anni che per lei il matrimonio era finito, sì. Attendeva solo il momento, lei attendeva solo il momento propizio, cioè il 18 dicembre, per scappare, per scappare con lui, andare a fare il famoso weekend ad un mago. Si dimentica, però, la famosa intervista dopo che era stato trovato il corpo, mi ricordate quella famosa intervista in cui lui stava in macchina con Salvo, con Gabriella, e gli domandarono, ma Liliana si è mai lamentato? Discussioni con il marito o qualcosa? E lui? No, no. Assolutamente. Assolutamente. Mai. Mai. E la maestra Gabriella? Dobbiamo andare, andiamo via, andiamo via. Mai, mai lamentare. Adesso dice, ma erano anni, erano anni che era finita, sì, ma è un matrimonio finito. Però in quell'intervista, in quell'intervista disse, no, ma quanto mai, sicuramente, ti giuro. Mai lamentato del marito. E questo è un fenomeno. Claudio Serpin è un fenomeno. Un fenomeno da circa questo, secondo me. E poi si vedono ancora fra di loro. Sono una banda degli onesti, tutte persone oneste, si vedono fra di loro. Quindi dovete capire che questa cosa del 18 dicembre, loro l'avevano decisa, questa fuga, questo weekend, dice l'avevano decisa il 25 di ottobre. Perché il 25 di ottobre, cari amiche mie, erano in occasione dei 40 anni che si erano conosciuti. Perché lei gli fece quel famoso messaggio da brividi. Vedete, ci sono nella vita a volte dei momenti in cui si hanno dei messaggi così belli, così romantici, così poetici, che si rimane veramente innamorati. ti cambia la vita. Alcune parole così profonde. Lei le scrisse. 25 ottobre. Sono 40 anni che ci conosciamo. Un messaggio da brividi, proprio da brividi dietro la schiena, vedete? E quindi non l'avesse mai detto questa frase, non l'avesse mai detta. In quel momento, in quel preciso momento, dopo tanto tempo, dopo una vita intera, riuscì finalmente a costeggiare, a conquistare. Lo conquistò in quel momento, con questo momento, con queste parole di poesia dolcissima. Conquistò quest'uomo. Sono 40 anni che ci conosciamo. Come è possibile? Amico mio, amico mio, datti pace. Come è possibile gridere? Ma amici miei, come è possibile gridere a un delirio del genere. Professor Picozzi, lei è troppo buono. Altro che pseudologia fantastica. Il problema qua è che i buoi sono scappati dalle stalle, come si dice, ma il problema è di chi ha permesso che questi buoi scappassero per andare in giro a fare danni, a fare danno ai cervelli. Beh, beviamoci sopra, perché io bevo acqua, io bevo acqua. Qualcun'altro no. Ah, l'acqua, l'acqua. Allora, tutto va a date. In questa storia tutto va a date. Doveva entrare in casa il 20 di dicembre. Doveva entrare in casa giusto un anno dopo, dalla morte della moglie. E percato che questo rispetto, però, non c'era perché lui sognava la bigamia. L'aveva detto, ma come si sta belle. Se lei stava in vita, l'avrebbe convinta a stare tutte e tre insieme. E lui, lui proprio, diceva questo. Lui che passava, quando era un po' più giovane, passava il tempo a mettere incinta, dice, le zie. Le zie di tutti coloro che conosceva, l'ha detto, ma poi perché? Ma perché lui ce l'aveva con queste zie? Ma perché dovevano essere, dovevano essere per forza zie? Ma perché si erano cognate, cugine. Non andava bene lo stesso. Ce l'aveva con le zie. È un vero circa questo, questo uomo. Una sorta, diciamo, per chi crede, ma in buona fede, io non ce l'ho, per carità. Lui è come un pifferaio magico che suona questa cantilena e riesce ad incantare. Ma lo dice stesso lui, vedete, perché poi la verità la dice stesso lui quando si dimentica. Lui dice che era dal primo settembre 2021 che veniva una volta la settimana a casa mia, quindi sono otto settimane, dice, a fare cosa? A stirare le camicie che poteva venire a fare, scusate, poteva venire a sedersi sul divano. No, veniva a stirare le camicie. Quindi, e poi, e poi dice di conoscerla meglio di chiunque altro al mondo. Ma se prima non veniva mai, non la vedevi mai. La vedevi una volta all'anno, quando andavi a protocollo a consegnare la domanda. Ma forse un buon Natale, un buon Natale di rispetto, un buon anno. Per decenni mai visti. Ma che cosa? Ma che cosa dice? La conosceva più che altro dal mondo, quando da settembre, dopo che lui aveva pianto, dicendo, sono un povero pensionato, vedovo, non ce la faccio niente. E lei magari, magari, per comprensione umana, una volta a settimana, magari, chissà, poteva anche fare qualcosa accaduto. Settembre 2021, lo dice stesso lui. Ma ci sei o ci fai? Non lo so. Aveva raccontato poi dell'incontro, prima di questo settembre, ad agosto, aveva raccontato di quel magico incontro al cimitero, vi ricordate? Dice, io non la vedevo da tanto tempo. Lo dice lui. Non la vedevo da tanto tempo e quel mese di agosto, al 2021, al cimitero, la vidi così, perché io venivo dalla tomba di mia moglie e lei, da quella della mamma, e ci vedemmo. Ecco, nasa di questo incontro, dopo tanti anni, quindi si dimentica, dice, leggo, chi ti conosceva? Chi ti conosceva, Serpino? Chi ti conosceva? Chi frequentavi? Non frequentavi nessuno. Non frequentavi nessuno. Era, prima c'era una frequentazione di telefonate. Non è vero di quell'incontro dell'agosto 2021. Le telefonate sono precedenti, è vero. C'erano quelle telefonate che tu però non puoi dire. Non puoi dire. Le tante telefonate già dal 2020 c'erano però queste mini telefonate a nascondere, evidentemente, cose, cose che si ritiene e non si possono dire. Altro che le sprizze al cimitero delle cose. C'è altro. E per nascondere queste telefonate si disse, vabbè, poi c'è stato un incontro fatale al cimitero. E poi si è stato costretti ad inventare tutta questa storiella perché altrimenti si dovevano giustificare le tante piccole mini telefonate. Ma voi pensate, ad un individuo del genere, una donna di una certa eleganza come Liliana Resinovic avrebbe mai potuto dire quella famosa frase che lui ripete se anche mi duri sei mesi o un anno avrò realizzato il sogno della mia vita. Ma la vuoi dire? Ma dice una stupidata più credibile. Ma chi sei? Ma sei la lendelon dei poveri? Sei il playboy ottantenne della vasovizza? Non lo so. Avrebbe detto Totò. Ma mi faccia il piacere. Gli domandano, ma avete mai discusso? Mai! Con Liliana. Ma quando è? Giustamente. Ma se non si vede, non discute. No, discute. Il più grande diverbio, dice, è stato dirsi ciao amore. Io, da settembre 2021, gli ultimi mesi, gli dicevo ciao amore almeno 20 volte al giorno. Dal 25 ottobre esattamente. Dal 25 ottobre. Da quel famoso messaggio. Sono 40 anni che ci conosciamo. Da quel 25 ottobre. Lui diceva 20 volte al giorno. Ciao amore. Ma dove l'hai sognato? Ma quando mai? Ma quale messaggio? Dove sei? Quale messaggio d'amore? Mai, mai detto amore. Mai, nemmeno una volta. Forse le facevi segnali di fumo. Ma non c'è nessuno, dico io, di buona volontà che può fermare questa forma di delirio incontrollabile. Ma allora veramente si può dire di tutto, amiche mie. Basta avere un microfono e dire di tutto. Cioè, lasciare questa persona così come un cavallo scatenato, come un toro impazzito. Altro che pseudologia fantastica. Qua è qualcosa di più serio. Ma voi ricordate le cose che ha detto? I baci, le carezze. Facevamo insieme l'idromassaggio nella jacuzzi. Ma quando te lo sei sognato questa cosa? Ma quando te lo sei sognato? Quando sognavi che stavi in paradiso? Ti dico, guardate, sognavo che stavi in paradiso e camminavo mano in mano con lei da un lato, con Liliana da un lato, e con la moglie deceduta dall'altra, lui in mezzo, che camminava nel paradiso. Incredibile, ma nessuno può fermare questo delirio. Io, dice, ho cominciato a frequentare donne da quando ero ragazzino, e non ho mai smesso, e non ho mai smesso lui. Ebbè, con la fantasia non si smette mai. Certo, e poi va a dire stesso lui, dopo che dice che non l'ha mai smesso, va a dire stesso lui che da alcuni anni però non può fare più niente perché è stato operato per due volte alla prostata e quindi è completamente impotente. Lo dice lui, l'ha detto lui. Quindi, infine ci rivela che lei, la Liliana, dovete sapere, ce l'ha detto ieri in questa intervista, che la Liliana si è sposata per fare rispetto a lui perché lui, talmente che l'amava e la voleva bene, che si è andata a sposare con la seconda moglie. E allora lei, dato che io, dice, l'ero scappato, e allora lei per ripiego, diciamo, come forma di ripiego, va a sposarsi con Sebastiano. Ma avete capito? Cioè Sebastiano diventa quello che sta in panchina, che entra perché dice, vabbè, si è sposato per la seconda volta e allora io mi accontendo, diciamo, del Sebastiano che, ecco, quindi, perché lui, lui, purtroppo era inconquistabile. Allora io dico, caro mio, caro mio 84enne, ma, ma vedi, ma, come si dice quella pubblicità? Ti piace vincere facile? Liliana non c'è a farti ingoiare tutte le cavolate che ti escono dalla bocca. Non c'è lei che può difendersi da tutto il fango e i problemi che lo Serpino le ha procurato, le ha procurato negli ultimi due anni della sua vita. Crede che fosse successo qualcosa addirittura nelle ultime settimane, quando Liliana addirittura è molto preoccupata, aveva paura. Secondo me aveva addirittura paura negli ultimi tempi di quest'uomo. Veramente, drammatica la cosa. E poi sarei io, e poi sarei io lo stronzo, più stronzo di tutti gli stronzi che hai conosciuto. E poi, vedete, vedete la chicca finale. Attenzione, adesso vi viene la chicca finale, quindi, quindi altra acqua, perché c'è chi beve vino, c'è chi beve acqua. Attenzione alla chicca finale. Dice, le avevo parlato che io avevo avuto questa operazione, come abbiamo detto prima, e ma Liliana gli dice non ci sono problemi. Ma che problemi? Perché io sono cinque anni, anzi sei o sette, che non ho più rapporti sessuali con Sebastiano, capite? Cioè lei, Liliana, gli va a dire, amore mio bello, ma tu sei diventato impotente per le operazioni, ma non ti preoccupare, perché tanto? Ma tanto che, qual è questo problema? Tu lo vedi Sebastiano, povero tu, ma lo vedi, quello che fa le fotografie, quello là che è tutto sordidente, con la bicicletta, che si fa centinaia di chilometri, ma sono sei o sette anni che, niente, cioè Liliana andava a dire a lui, Liliana andava a dire a lui, che erano sei o sette anni che non aveva rapporti sessuali, sessuali, ma capite? Ma capite? Cioè a lui gli piace vincere facile, perché non c'è Liliana che gli fa ingoiare queste parole. Come direbbe appunto mia nonna, che era saggia, direbbe sono scappati i cavalli dalla stalla, una pagliacciata del genere, mai sentita, condensata in 20 minuti, non l'avevo mai sentita, tutto 20 minuti di Serpin, di pagliacciate, non le avevo mai sentite. Che dirvi carissime, questo simpatico signore di 84 anni, dice testualmente, che tutti quelli che la pensano come me, non hanno capito niente. Oppure lo dice perché ha paura che noi abbiamo capito tutto. La sua, è la disperazione, secondo me, del naufrago, che si aggrappa all'ultima scialuppa, è come, è come vedete quel polipo, avete visto quando uno prende un polipo, avete visto qualche po' che getta il suo inchiostro, per confondere. L'unica verità è che Liliana Resigno ci è stata restituita in due sacchi neri della spazzatura. La verità è che, gli ultimi due anni di vita, lei era totalmente cambiata, amico mio. E però era cambiata, impaurita, era di malumore. Perché l'avvicinamento con Serpin, del 2020 e 2021, era stato il periodo più drammatico della sua vita. Una vita condotta per 30 anni con Sebastiano, diciamo, più o meno bene, anche una coppia invidiata. Poi il periodo Covid, è l'inserimento martellante, martellante dello Serpin, che probabilmente cambia questi equilibri trentennali, che probabilmente la mette nei guai, che probabilmente la mette in seri guai, in seri guai che lui conosce. non c'era amore, amiche mie, non c'era amore. E agli atti, tutto il resto, è fantasia, agli atti non c'è amore. Specie negli ultimi tempi della vita di questa donna, non c'era poesia, non c'erano sorrisi, c'era solo preoccupazione per la presenza sempre più ossessiva di questo uomo 84enne che era ossessivo, specie negli ultimi tempi. Sebastiano, credo, non poteva non sapere di questa cosa. Forse ha sottovalutato, forse perché aveva ed ha anche lui i suoi bei scheletri nell'armadio, come si dice, perché poi magari dice poi adesso vanno a scoprire si parla di soldi, di casino, i soldi che giravano, eccetera, quindi zitto qua, zitto là e un po' tutti sono stati vili, vili, proprio, sono scappati con la nave che stava affondando. La vittima è una sola, la vittima è solo Liliana Resinovic e la nave della sua vita non era andata a sbattere contro un iceberg casualmente, era andata a sbattere la nave della sua vita contro la cattiveria umana, la voglia di interessi, di soldi. Lì è andata a sbattere Liliana Resinovic, lei era sempre stata generosa, era sempre stato uno spirito libero, coraggiosa, forse troppo coraggiosa, non aveva paura quando da giovane si buttava con il paracadute, ma forse proprio per eccesso di generosità si è spinta oltre ed ha trovato persone cattive che non gli hanno perdonato niente. lei sempre davanti impavida, quella mattina senza documenti né telefoni, incontra proprio destino e gli altri a scappare via, a dire non so nulla. Un solo dato è certo, è storico, è storico, cioè la presenza di quelle 1.200 telefonate in tre anni, soprattutto nel 2020-2021 con lo Serpin che cambiano gli equilibri della sua vita come un abbraccio mortale, un ruolo veramente drammatico a mio avviso di Serpin nella vita di Liliana. questa è la mia impressione. Altro vuol dire a Serpin che non aver capito niente. Abbiamo capito bene, bene, senza favole, con i fatti, senza la favoletta che si deve credere perché si deve credere senza riscontro si crede perché perché è fideistica. Lo Serpin mi definisce in questo video uno stronzo più stronzo di tutti gli stronzi che conosce. Però questo stronzo amico mio non si fa incantare dai vaneggiamenti senza riscontri dai deliri senza nessuna prova che troppo generosamente il professor Picozzi definisce pseudologia fantastica. Altra che pseudologia fantastica qua c'è. La verità la sai bene qual è così dire. Quindi dovresti anche ringraziare Dio che magari si arriva ad aschiviare per per suicidio. Va così non si scopre niente di niente. Fra poco vedete fra poco il sipario si chiuderà la recita finirà finirà anche per te Serpin le luci si spegneranno potrai togliere la maschera il naso il naso rosso perché come dice quella celebre frase il tempo mette ognuno al proprio posto ogni regina sul suo trono ed ogni pagliaccio nel proprio circo. grazie amiche mie vi voglio bene condividete questo video perché qualcuno dice che sono uno stronzo più stronzo degli stronzi però la mia nonna diceva non offendesti guarda chi te lo dice un abbraccio a tutti quanti voi vi voglio bene seguitemi siamo sulla strada giusta non sulla strada della fantasia ciao a tutti ciao